E ora parliamo del piano genitoriale che è stato introdotto recentemente dalla riforma Cartabia nel procedimento di separazione e divorzio. Ne parliamo con l'avvocato matrimonialista Rossella Angiolini. Buongiorno, grazie. Avvocato, che cos'è il piano genitoriale e cosa cambia rispetto al passato? Dunque, il piano genitoriale è un elemento, diciamo, nuovo nell'ambito della separazione e del divorzio introdotto dalla riforma Cartabia. Prima della riforma Cartabia il giudice, se le coniugi non si trovavano d'accordo, disponeva le modalità di visita, il collocamento prevalente, i giorni che doveva stare col babbo, la mamma, eccetera. Invece, con il piano genitoriale, tutti e due i genitori si devono, diciamo, proporre, se è una separazione giudiziale o mettersi d'accordo, su quello che è un programma giornaliero della vita dei figli. Faccio un esempio. Chi lo porta a scuola? Chi lo riprende? Chi lo porta alle attività? E questo può riguardare sia l'attività dei genitori stessi, oppure, non so, babysitter, nonni. Quindi, un piano molto dettagliato per quanto riguarda l'istruzione dei figli, quindi la scuola da frequentare, le attività extrascolastiche, penso ad esempio alle attività sportive, e anche, diciamo, le persone, quindi, che possono stare con questi bambini, che sono, quelle che dicevo prima, un eventuale compagno o compagna dei genitori. Quindi, dov'è la novità? La novità è che, praticamente, in questo piano genitore si stabilisce dal lunedì al fine settimana, comprese vacanze, estive, invernali, eccetera, quella che sarà la gestione quotidiana dei figli. Allora, se è una separazione consensuale, i genitori, con l'assistenza dei loro legali, naturalmente, formulano insieme questo piano genitoriale, che solitamente ricalca quella che è la vita quotidiana dei bambini anche in costanza di matrimonio. Mentre, quando è la giudiziale, ed è questo che è il problema, diciamo, da focalizzare, ciascun genitore propone il suo piano genitoriale. Dopodiché dovrà essere il giudice che, valutando l'uno o valutando l'altro, dovrà o accettare l'uno o l'altro, o cercare di fare una sorta di compensazione, prendendo suggerimenti proposti da un genitore e suggerimenti proposti dall'altro. Qual è lo spirito che sta alla base di questo piano genitoriale? Di fare in modo che tutti e due i genitori, quindi solitamente il padre, in quanti figli, nel 90% dei casi vengono collocati con la mamma, che anche il padre possa partecipare attivamente alla vita quotidiana dei propri figli. Ma questa è una bella cosa. Cioè, si tratta dell'attuazione di quel principio, mi pare, della legge del 2016, che stabiliva il concetto di bigenitorialità e che ha stabilito il concetto che i figli devono essere affidati a tutti e due i genitori. Quindi non più, come prima, ad un genitore che decideva tutto e l'altro controllava. No, i figli sono affidati a tutti e due i genitori. Quindi affidamento condiviso. Qual è l'espressione massima di questo affidamento condiviso? È che è il piano genitoriale. Cioè, i genitori sanno quotidianamente come partecipare alla vita dei propri figli. La considera quindi una buona novità? Dunque, io la considero una buona novità. Anche perché, in questo modo, i genitori, tutti e due, sono maggiormente coinvolti. E poi, la conseguenza, se non viene rispettato il piano genitoriale, sono previste, dal giudice stesso, delle multe che possono arrivare addirittura fino a 5.000 euro, nel caso in cui o un genitore o l'altro genitore disattenda. Cosa intendo? Faccio un esempio. Il babbo dovrebbe portare i figli, toccano a lui, all'attività fisica. La mamma costantemente trova delle scuse per far sì che il padre non possa con i figli accompagnarli agli sport, tenerli o accompagnarli a scuola. Questo significa disattendere il piano genitoriale da parte della mamma. Invece, da parte del babbo, cosa può essere? Ad esempio, oggi il babbo doveva stare con i figli, doveva portarli a scuola, riprenderli a scuola, trova continuamente delle scuse e disattende, diciamo, a questo impegno che si è preso col piano genitoriale. E anche lui, quindi, potrà essere sanzionato dal giudice. Quindi c'è un controllo anche costante? Sì, perché se uno dei due genitori non rispetta il piano genitoriale, può ricorrere al giudice con un ricorso, portare anche le prove, sempre in tempi brevi, portare le prove e quindi il giudice deciderà e potrà anche cambiare il piano genitoriale, fino ad arrivare, diciamo, a quella che può essere la decisione più incisiva, cioè di modificare l'affidamento condiviso e affidare il bambino a quel genitore che invece si è mantenuto diligente nel rispetto del piano genitoriale. Quindi come si vede, Gloria, i genitori vengono tenuti molto sotto controllo. Quella che è la sua esperienza in chiusura è una novità accolta favorevolmente anche dai genitori. Dunque, quando i genitori si trovano tutto sommato d'accordo, sì. Quando invece siamo in fase di giudiziale, è ovvio, Gloria, che qualsiasi cosa in più sulla quale il giudice deve decidere porta conflittualità ai genitori. Lì, quando non ci si trova d'accordo su nulla. La conflittualità massima, però meglio che ci sia conflittualità nel momento, diciamo, del giudizio, ma che questi bambini abbiano la certezza di continuare ad avere un babbo e una mamma seppur i genitori sono separati. Grazie all'Avvocato Rossella Angiolini di essere stata con noi. Buon lavoro. Grazie. Noi ci prendiamo una pausa e torniamo tra pochissimo.